Siamo a Bobbio Pellice davanti alla caserma degli Alpini che è stato poi sede della milizia dei moru quindi fascisti durante il periodo della resistenza. Qui la caserma ha subito due attacchi, un attacco fatto subito a dicembre del 43 che è fallito, non è riuscito per inesperienza dei gruppi partigiani e poi con il secondo attacco invece dopo tre giorni di combattimento è stata presa la caserma. Sono stati presi i militari d'ostaggio, circa una quarantina di ostaggi che poi sono stati scambiati con degli ostaggi. Il secondo combattimento o il secondo attacco alla caserma è caratterizzato da un cosiddetto attacco a Ciancun che i partigiani avevano delle bombe ma non avevano il mortaio per lanciarle e quindi venivano lanciate a mano queste bombe con un innesco di una bomba a mano, quindi venivano buttate delle bombe del mortaio con un innesco. La caduta della caserma è poi avvenuta quando con il combattimento di Rio Cross sono riusciti a impossessarsi di un mortaio, allora con il mortaio sono riusciti a completare l'attacco. La caserma era andata quasi distrutta, adesso è stata ristrutturata nel 2009 e è diventato un centro vacanze. Grazie a tutti.